Ci sono questi mega sacerdoti che parlano negli stadi e dicono se non pensi positivo non sarai mai ricco. Tutto questo porta a dover pensare sempre positivo, che è una cosa assolutamente impossibile, non sana ed è una cosa che distrugge la salute mentale delle persone. Ciao, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo episodio del podcast. Prima di lasciarti all'episodio ti voglio chiedere un semplicissimo favore. Dalle statistiche di YouTube ho visto che il 90% di chi guarda questo podcast, quindi degli ascoltatori, non è iscritto al canale. Quindi ti chiedo veramente se riesci a prenderti un secondo del tuo tempo per iscriverti, attivare la campanella delle notifiche e in questo modo ci aiuterai tantissimo nel poter crescere, nel poter divulgare questi argomenti sempre a più persone possibile. E dall'altra parte farai del bene anche a te stesso perché facendoci crescere, facendo crescere questo canale, questo podcast, il calibro degli ospiti che potremmo portare sarà via via sempre maggiore e potrai beneficiarne anche tu, usufruendo gratuitamente poi di questi contenuti. Ti ricordo inoltre che questo podcast è finanziato direttamente dalla mia accademia di formazione riguardo la salute e l'ottimizzazione del benessere, Wild Human. Trovi il link qui sotto all'episodio per eventualmente iscriverti e ora ti lascio a questo podcast. Live. Ciao Marco, come stai? Benvenuto sul podcast. Bene, bene. Grande. Allora, oggi Marco ti chiederò fra pochissimo subito di introdurti così ci lasci un po' il tuo background. Faremo una bellissima chiacchierata, secondo me uscirà fuori sullo sviluppo personale. Abbiamo già individuato qualche tema, secondo me, super interessante. Hai individuato qualche tema super interessante che vorrei subito approfondire, però ti chiedo subito di, prima ancora di entrare, di tuffarci in questo discorso, di presentarti. Cioè chi sei? Cosa fai nella vita? Dacci un po' il tuo contesto, il tuo background, così da capire un attimino dove siamo. Vai. Assolutamente. Allora, io faccio un passettino indietro per dirvi una cosa importante su di me e perché sono finito a occuparmi di sviluppo personale. Allora, io praticamente da sempre soffro di balbuzie che, per chi non lo sapesse, è quella difficoltà nel parlare. Ora, mi sentite che non balbetto tanto perché ci ho lavorato tanto. Insomma, diciamo che la balbuzie va dal non riuscire a parlare, cioè bloccarsi muscolarmente completamente, a ogni tanto fare qualche micro inceppamento, per cui il range è gigantesco. Da piccolo ce l'avevo fortissima, da giovane molto forte, al punto tale che ho mollato l'università perché non riuscivo a dare gli esami che erano il 99% orali. Quindi, dopo ci ho lavorato tanto, sono migliorato e però, avendo superato, superato non nel senso che l'ho eliminata, ma nel senso che riesco a dire quello che voglio, quindi avendo superato la balbuzie però, mi sono ritrovato con tutta una serie di problematiche di secondo ordine, se vogliamo, cioè quindi la timidezza, l'insicurezza. Su queste cose ci ho lavorato grazie alla scoperta del mondo dello sviluppo personale, per cui io vengo da cliente prima nel mondo dello sviluppo personale, quindi per anni ho seguito tutte queste cose. Dopo da ormai 15 anni lavoro nel mondo dello sviluppo personale, principalmente nel campo della comunicazione, quindi per esempio la principale cosa che faccio in questo momento è collaborare con il dottor Gennaro Romagnoli e da poco con il dottor Valerio Rosso. Abbiamo questo sito, si chiama Psynel, psynel.com, in cui io mi occupo di comunicazione, il dottor Romagnoli crea i contenuti e offriamo questi corsi di sviluppo personale più sul lato, diciamo, psicologico, scientifico, serio, diciamo così, per cui non c'è motivazione alla Anthony Robbins, non c'è spiritualità. Quindi mi occupo di questo, mi occupo di comunicazione nell'ambito dello sviluppo personale. Diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di togliere lo stigma dello sviluppo personale come qualche cosa di strano e renderlo come la normalità della vita. Quindi nasce, diciamo, proprio da una tua esigenza ancora prima, cioè, voglio capire, è stata un'esigenza nel senso a livello personale, cioè un qualcosa che tu hai sentito la necessità di voler, tra virgolette, approfondire, risolvere, oppure più da un'esigenza, mettiamola in questo senso, esterna, nel senso che era un qualcosa che ti condizionava magari nelle relazioni, come hai detto tu all'università, eccetera, eccetera, e quindi magari era più un discorso legato anche banalmente a come apparivi agli altri, no? Cioè, qual è stata la motivazione principale? È più una spinta interna o la paura, tra virgolette, o il timore di essere anche magari giudicato oppure ho visto, qual è stata la motivazione? È un'ottima domanda, quindi non l'avevo mai pensato, sicuramente la spinta è stata esterna prima, cioè mi sentivo meno degli altri, quindi probabilmente inconsciamente mi sentivo che gli altri mi considerassero meno di loro, in realtà, alle persone di noi, non gliene frega niente, perché tutti pensano, che tutti pensino al loro settore, quindi no. Però, all'epoca, quindi la spinta è stata esterna, dopo che ho superato un po' la timidezza e queste cose qua, la spinta è stata più interna, mi sono reso conto che potevo raggiungere determinati obiettivi e quindi la spinta è stata più, ok, ho questo obiettivo qua, raggiungiamolo. Certo, quindi è sempre un po' il discorso dell'azione che in realtà alimenta poi la motivazione, no, quindi magari hai iniziato ad approfondire, ti è piaciuto e l'hai approfondito ancora di più. Visto che comunque l'abbiamo già citato più o più volte, il discorso dello sviluppo personale, ci introduci dal tuo punto di vista o dal punto di vista anche scientifico, mettiamo così, cos'è lo sviluppo personale, a cosa serve, giusto per avere un po' di contesto poi per i punti che andremo a toccare? Certo, allora la mia definizione di sviluppo personale è tutto ciò che è un po' famoso in un determinato momento e ha l'obiettivo di migliorare le persone, quindi lo sviluppo personale non è una pratica specifica, cioè non è come dire psicologia, biologia, imparare a giocare a, non lo so, tennis, è più tutto quello che va di moda in quel periodo, in quel decennio, che le persone pensano che sia importante per migliorare, quindi dato che è un secchio, un insieme in cui entrano varie cose ed escono varie cose negli anni, la definizione cambia di anno in anno, cioè non tanto, scusa, la definizione ma quello che c'è dentro, cioè se pensiamo allo sviluppo personale nell'antichità era la filosofia, prima fra tutte lo stoicismo, certo, se vogliamo, dopo negli anni 80 potremmo dire che la maggior parte dello sviluppo personale era la PNL, la programmazione neurolinguistica, dopo la PNL sta sicuramente passando di moda ora e sta entrando più psicologia seria e sebbene la PNL fosse comunque nata dalla psicologia, però diciamo per il grande pubblico non so perché c'è la differenza tra PNL e psicologia come se la PNL fosse, non so, biologia molecolare, comunque diciamo che ora sta entrando molto più psicologia seria grazie anche alla pandemia che ha fatto sorgere la consapevolezza dell'importanza della psicologia e stanno anche entrando tutte quelle pratiche di benessere fisico che ci sono sempre state ma stanno entrando con molta forza, infatti se vogliamo, e io lo faccio per me, si buttano dentro nel sviluppo personale tutto quel parlare di longevità con il mitico Brian Johnson eccetera eccetera per cui diciamo che lo sviluppo personale è cambiato negli ultimi anni dall'essere PNL motivazione all'essere psicologia seria e longevità e salute fisica certo, questo è esattamente un punto che volevo appunto toccare perché poi io ho una critica tra virgolette o comunque una mia opinione che ho sempre mosso al mondo dello sviluppo personale soprattutto più che altro quello legato ai famosi guru che magari lo approcciano in modo molto più poco etico diciamo e anche quello proprio legato al fatto che c'è un'estrema attenzione verso magari il successo la produttività, tutte quelle cose per lo più anche magari materiali e si dà invece pochissima attenzione a tutto quello che l'aspetto invece personale inteso proprio come hai detto tu, quello del benessere, quindi il benessere fisico il benessere mentale e quindi io credo che benessere crescita, benessere sviluppo siano ovviamente due facce della stessa medaglia, cioè non può esserci crescita se non si sta bene banalmente, così come non si può stare bene se non ci si sviluppa dal punto di vista personale, quindi sono due cose che tendenzialmente vanno un po' a pari passo e quindi volevo agganciarmi a quello che è il tuo percorso perché tu lo stai documentando su YouTube, ovvero un percorso di, tra virgolette, di rimessa in forma del tuo stato di forma fisico, mentale, chiamiamolo come vogliamo da dove è nata questa tua appunto necessità di voler intraprendere un percorso di questo tipo un percorso mi pare annuale, cioè dove tu ti sei impegnato addirittura col pubblico che è probabilmente una delle strategie più potenti per rimanere aderenti ad un percorso da dove nasce questa tua necessità del volerti migliorare da questo punto di vista quindi del tuo benessere fisico, mentale? che sto diventando vecchio, caro allora, praticamente noi abbiamo cominciato, cioè io e il dottor Romagnoli abbiamo cominciato a collaborare con il dottor Valerio Rosso che è medico e psichiatra per creare un corso che si chiama Brain Restart e va a sviluppare tutta una serie di capacità attraverso il lavoro sul corpo e sulla mente e quindi l'approccio del dottor Rosso passa molto attraverso il corpo e sebbene abbia sempre saputo che ovviamente fare sport fa bene anche alla mente però sai, si sa che fanno bene tante cose e poi però al lato pratico non si fanno quindi ho letto il libro del dottor Rosso, abbiamo fatto questo corso insieme e mi si è accesa una lampadina su quanto io per il mio benessere mentale mi sia sempre occupato solo dell'aspetto, cioè lo abbia voluto migliorare solo attraverso esercizi psicologici diciamo così, e non attraverso il lavoro sul corpo unito al fatto che ho compiuto 39 anni e unito al fatto che c'è tutto questo interesse per la longevità mi sono detto, beh, sarebbe bellissimo, bellissimo ispirare le persone con un percorso di un anno in cui comincio facendo un mese di allenamento a bassa intensità il secondo mese vado in palestra, farò per immagino una low carb, magari una keto insomma, le provo tutte e quindi questa cosa mi ha stupito, mi hanno stupito i risultati cioè non mi aspettavo di averli così velocemente sul mio stress per esempio perché sono una persona che lavora tanto, sono tanto stressata, ho due figli piccoli trovarmi alla sera con sicuramente un 50% dello stress in meno è stato per me un dirmi ma perché non l'ho fatto prima certo, ma non credi che questo possa essere veramente un limite nel mondo dello sviluppo personale nel senso il fatto di... ora voi sicuramente non siete il caso, nel senso che sia Gennaro che Valerio comunque tengono tanto da quello che divulgano anche a questi aspetti qua però in generale mi accorgo che nel mondo magari dello sviluppo personale si dà realmente poca attenzione a questo aspetto qui, no? tanto che tu stesso mi hai detto ci sei dentro da 15 anni ed è arrivato al quindicesimo anno questa presa tra virgolette di consapevolezza quindi ti chiedo perché secondo te c'è questo... possiamo definirla quasi una dicotomia nel senso che io ti ho detto sono due facce della stessa medaglia però poi nel pratico la maggior parte delle persone più che altro l'approcciano veramente come fossero qualcosa di completamente slegato, no? secondo te perché si dà così poca attenzione al proprio benessere fisico a volte anche quello mentale e sì invece lo sviluppo personale viene decantato come il solo la ricchezza, la crescita, il raggiungimento degli obiettivi e queste cose qui ma guarda un paio di cose innanzitutto sta secondo me fortemente cambiando tanto che si fa ancora questa distinzione però secondo me fra dieci anni tutti quelli, cioè tutte le persone che seguono lo sviluppo personale si occuperanno tantissimo anche del proprio corpo e questa cosa la vedi in tanti influencer che sono cambiati che ora si occupano anche tanto del benessere fisico e la seconda cosa che vorrei dire è che in realtà la distinzione fra corpo e mente è una distinzione vecchia che è così insita nella nostra società che diamo per scontato quindi non ci viene neanche da dire molto spesso il lavoro sul corpo per migliorare corpo e mente, no? è come se devi lavorare sulla mente per migliorare sulla mente devi lavorare sul corpo per lavorare sul corpo quindi in realtà deriva da tutta quella serie di idee che sono nel sottobosco della nostra psiche perché ci sono passate da generazioni a generazioni però questa cosa sta fortemente, fortemente cambiando il dottor Rosso che è appunto psichiatra mi dice che nella psichiatria si parla sempre di più dello stile di vita ovviamente facciamo una super precisazione qua perché le persone capiscono male se hai un disturbo forte devi andare da uno psichiatra, da uno psicologo cioè non è che se sei depresso con una corsa risolvi no? perché ne parleremo dopo queste cose purtroppo succedono che le persone capiscono che con un po' di esercizio fisico si risolve tutto non è assolutamente così però questa distinzione secondo me sta completamente sparendo super super no, sono d'accordo e volevo chiederti anche il tuo punto di vista in questo senso sulla bidirezionalità tra corpo e mente nel senso sappiamo che il lavoro sulla mente può beneficiare il corpo il lavoro sul corpo può beneficiare la mente tu ora che ti sei immerso in questo diciamo nel benessere fisico quindi hai visto i benefici che lavorare sul tuo fisico può darti a livello anche mentale hai detto tu sulla gestione dello stress ad esempio ti chiedo dal tuo punto di vista qual è la direzione preferenziale nel senso è meglio lavorare sul proprio corpo per ottenere dei benefici riflessi sulla mente o è meglio farli inverso o farli insieme perché io cito sempre questa frase che purtroppo non ritrovo chi diavolo l'avesse detta che diceva che la nostra mente fa esperienze di vita limitate alle capacità del nostro corpo cioè se tu non hai un corpo in forma non hai un corpo prestante prestazionale difficilmente avrai una mente che potrà diciamo essere diciamo esprimersi al meglio quindi ti chiedo qual è la tua visione da questo punto di vista ti chiedo scusa per questa brevissima interruzione ti rubo giusto 20 secondi per informarti che se questi che aggrate ti stanno piacendo ho un annuncio importantissimo da farti infatti voglio invitarti all'Italia il Summit 2024 l'evento 100% online che ho organizzato l'1, 2 e 3 marzo in cui ho riunito i migliori professionisti ed esperti nel panorama della salute del benessere in Italia che attraverso workshop e speech di livello ti aiuteranno a raggiungere la tua miglior condizione fisica e mentale di sempre staranno avendo pazzesco che ti aiuterà a passare da zombie ad essere umani di successo quindi se ti interessano tutti questi argomenti vorresti partecipare all'evento ti lascio il link qui sotto trovi i ticket attualmente ancora in sconto quindi puoi dare un'occhiata e ora ti lascio il podcast è un domandone cioè nel senso la risposta penso che come mi disse faccio anche io una citazione un mio professore delle medie una volta mi disse una cosa geniale secondo me che è ad ogni domanda complessa la risposta giusta è sempre dipende quindi dipende se una persona vuole risolvere un problema specifico dipende molto dal problema sicuramente se mi chiedesse uno come per esempio risolvere l'ansia forte ti direi sicuramente con degli esercizi psicologici perché per ora la scienza ci ha dimostrato che sono quelli che funzionano maggiormente per un benessere generale anche lì sicuramente un approccio combinato è la strada migliore e infatti guarda fatalità stiamo te lo dico in super anteprima se vuoi stiamo scrivendo un libro io il dottor Romagnoli e il dottor Rosso che ha una routine che passerà attraverso corpo e mente per migliorare corpo e mente fondamentalmente perché abbiamo cercato di mettere insieme il minimo indispensabile l'80-20 per il maggior beneficio per cui ricapitolando nel benessere generale fare il minimo indispensabile possibile su corpo e su mente se c'è un problema specifico dipende totalmente dal problema ottimo sì sì no sono completamente d'accordo e poi sicuramente sono comunque due cose che si autoalimentano quindi effettivamente approcciarle poi da entrambi i punti di vista è sempre l'ideale no ti ho detto l'ho visto pensavo mi riferissi invece al tuo altro libro che hai scritto sempre con Gennaro però quello rivolto ai bambini diciamo no? ai bambini poi magari se abbiamo modo ne parleremo anche di quello bene quindi fondamentalmente tu comunque tutto questo cambiamento l'hai vissuto chiaramente l'hai sperimentato ora ci sei dentro e so che abbiamo più o meno individuato dei punti critici anche no? di tutto quello che è il mondo dello sviluppo personale perché poi come ti dicevo spesso si cade in diciamo in dei tranelli no? soprattutto in figure magari mi viene in mente classici influencer no? che magari ora non per fare di tutto il buon fascio però sicuramente è un mondo diciamo a cui bisogna fare attenzione nel senso bisogna capire anche da chi andare da chi rivolgersi chi seguire banalmente anche sui social no? perché ci sono come sai benissimo tu tantissimi definiamoli boffalsimiti criticità comunque cose a cui magari fare un po' di attenzione a cui prestare attenzione perché poi possono effettivamente diventare anche un'arma a doppio taglio no? ti chiedo quindi la prima che abbiamo individuato che è quella legata al discorso del pensare positivo del pensiero positivo perché probabilmente deriva anche un po' da correggimi se sbaglio dal come hai detto tu dal mondo della PNL no? c'è sempre stato questo stigma del pensa positivo cose di questo tipo ce lo spieghi meglio e perché soprattutto bisogna stare attenti ad una comunicazione di questo tipo? assolutamente allora il pensiero positivo ovviamente bisogna definire che cosa si intende con pensiero positivo perché se il pensiero positivo è l'ottimismo è il pensare che sia possibile raggiungere un obiettivo il pensare che le cose possano cambiare il pensare di poter migliorare ovviamente lì non c'è neanche da parlarne è ovvio che questa cosa faccia bene il mindset del cambiamento è una cosa che la scienza ci ha dimostrato perché è importantissimo per il nostro sviluppo nei bambini nei adulti per cui ovviamente non parliamo di quel pensiero positivo purtroppo però quando parliamo di pensiero positivo nello sviluppo personale si intende il ripulirsi dai pensieri negativi e il pensare solo pensieri positivi ora ok i pensieri positivi no scusami i pensieri negativi sono qualcosa che ci è utilissimo cioè se io domani ho un importante business meeting una riunione la mia mente che come dice il mio socio è una macchina predittiva cioè comincerà a farsi dei film mentali su che cosa potrebbe succedere perché vuole essere preparato mi tirerà fuori anche dei problemi e quindi mi dirà ah il il business partner potrebbe dire quella cosa lì che non ti piace e tu te la puoi prendere ok questa cosa ovviamente se non ci entro dentro non ci penso 24 ore su 24 ma se è un semplice pensiero mi è utilissimo o se sono fuori con mio figlio e se avvicina al bordo della strada cioè avrò un pensiero che forse mi preoccupo e devo toglierlo se hai tre anni no ok quindi se alla base i pensieri positivi non cioè sono fondamentali scusami negativi se i pensieri negativi sono fondamentali è ovvio che se sono eccessivi se hanno sempre se sono sempre nella tua mente costantemente quello è un problema che si deve risolvere con uno psicologo ora il problema è che queste persone molto spesso non andando da uno psicologo che cosa fanno cominciano a studiare pensiero positivo e pensano di doversi ripulire dai pensieri negativi per cui comincia una battaglia interna cioè nasce un pensiero negativo tento di coprirlo con un'affermazione positiva le affermazioni positive un certo tipo può anche funzionare ma mai per coprire un pensiero negativo chiaro per cui si crea pensiero negativo lo scaccio pensiero negativo lo copro con un positivo pensiero negativo faccio qualche cosa per e si crea una dinamica di continuamente scacciare i pensieri negativi che è una cosa che fa malissimo e non è che lo dico io cioè ci sono proprio studi che dicono prova a scacciare questi pensieri stai meglio o stai peggio dopo stai peggio dopo chiaro quindi e ti dico anche da dove deriva tutta questa cosa la PNL l'ha solo presa ma in parte perché in realtà la PNL pura non ti dice in modo secco distruggi questi pensieri ti ci fa lavorare in un modo un po' particolare non è semplicemente mandali via che sono cose sporche è molto più complesse di così ancora prima questa cosa nasce da una branca della religione negli Stati Uniti perché il modo in cui si trattano i pensieri negativi è il modo in cui si trattano i pensieri peccaminosi ok quindi nella religione in tante religioni il pensiero è di per se stesso un peccato quindi solo il pensare al desiderare la donna ad altri per esempio è un peccato e quindi finisci all'inferno secondo queste religioni quindi di conseguenza se io mi devo ripulire dal pensiero peccaminoso tutti gli altri pensieri che mi possono portare all'insuccesso perché molta della religione americana è legata anche al successo ci sono questi mega sacerdoti che parlano negli stadi e dicono se non pensi positivo non sarai mai ricco tutto questo porta a dover pensare sempre positivo che è una cosa assolutamente impossibile non sana ed è una cosa che distrugge e non uso questo termine a caso distrugge la salute mentale delle persone perché tutte quelle persone che vanno ai corsi di adesso farò un nome verrà fuori un super mi diranno tutti vanno ai corsi della di legge d'attrazione e gli dicono devi pensare sempre positivo scaccia se pensi negativo crei la tua realtà negativa è un modo perfetto per farti venire un bel attacco di panico chiaro proprio e ripeto una cosa è l'ottimismo una cosa è scacciare i pensieri negativi sono due robe completamente diverse quindi diciamo è sempre un po' chiaramente l'approccio che noi facciamo ai nostri pensieri anche nel senso va capito molto come interpretarli come approcciarsi e soprattutto probabilmente anche contestualizzarli chiaramente come hai detto tu prima al momento in cui siamo hai fatto l'esempio del se hai il bambino sul marciapiede vicino alla strada chiaramente va contestualizzato in quel contesto lì quindi è sempre qualcosa da vedere probabilmente anche momento per momento nel senso che magari anche lo stesso pensiero vissuto magari in due contesti differenti in due momenti differenti potrebbe assumere da una parte una sembianza positiva dall'altra una sembianza negativa certo cioè se sul momento mio figlio si avvicina al marciapiede è utile che io abbia quel pensiero se ci penso 24 ore su 24 forse ovviamente devo parlare con un psicologo per cui dipende e qual è da questo punto di vista il tuo consiglio che puoi dare magari alle persone in ascolto per riuscire a fare questo cambio di approccio questo cambio di visione riguardo al pensiero positivo nel senso ci sono dei piccoli esercizi o banalmente anche delle qualcosa che possa aiutare le persone a approcciarsi meglio con i propri pensieri quindi con la propria parte diciamo più più anche irrazionale da un certo punto di vista no certo allora ci sono tanti modi per lavorare sui propri pensieri c'è una metodologia che si chiama ACT che sta per Acceptance and Commitment Therapy che lavora anche sui pensieri e riesce attraverso una serie di metodologie chiamate di diffusione a farti avere l'esperienza che i pensieri sono solo pensieri e non sono la realtà per esempio c'è questo esercizio carino di diffusione in quanto se hai dei pensieri ricorrenti di autocritica per esempio puoi dare un nome cioè quindi per esempio se senti sempre questa voce che ti dice non sei abbastanza puoi poi dagli un nome può essere un nome simpatico per esempio la rompiballe ok e ogni volta che ti vengono fuori questi pensieri qua ti puoi dire ah la rompiballe mi sta parlando no certo di modo tale da cominciare a creare un po' di distacco che non è annullare questi pensieri ci saranno sempre questi pensieri però è cominciare a creare un po' il distacco la seconda cosa che posso dire è la meditazione tra l'altro noi abbiamo un'app di meditazione si chiama clarity che è gratuita e la terza cosa se invece sono preoccupazioni ovviamente se è ansia forte bisogna parlare con uno psicologo ma se sono preoccupazioni stranamente una tecnica che la dirò sembra banalissima però funziona molto è dire se hai delle preoccupazioni che nella giornata ti vengono diciamo spesso metti un timer per pensarci cioè invece che ti vengono e tu tenti di scacciarle e ti vengono e tenti di scacciarle ribalta la cosa quindi ti metti un timer per esempio ti metti la sveglia alle 7 di sera e dici ok ci penserò 10 minuti in maniera forte sembra una sciocchezza però in realtà questa cosa funziona moltissimo se alle 7 hai voglia di pensarci ci pensi e ci pensi tanto se non è un problema si lascia fare da nessuno certo quindi il discorso è circoscriverla ad un momento specifico che poi probabilmente entra in gioco l'atto un po' come il procrastinare qualche minuto nel mangiare un dolce o nell'aprire social magari quel quel tempo di latenza lì ti aiuta poi effettivamente magari a non averne più voglia e quindi magari anche in quel senso può essere una mano è molto figo il discorso però più che voglia scusa se ti interrombo più che voglia è proprio un contro evitamento cioè certo i pensieri negativi le preoccupazioni se sono tante perché se sono normali abbiamo detto che sono robe che capitano se sono costanti vengono tenuti in piedi dal nostro tentativo di scacciarli come vedremo dopo e quindi è fare l'esatto contrario cioè dire invece che mi vengano vado io a cercarli e ci penso io alle 7 di sera per esempio certo 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 no dicevo è molto figo poi anche il discorso dell'act quindi del semptus commitment therapy che fondamentalmente è anche una tecnica utilizzata anche nel mondo del dolore chiaramente la prendiamo in prestito dalla psicologia per lavorare su tutte quelle forme di dolore cronico dolore persistente o in pazienti che hanno subito un'amputazione eccetera eccetera c'è tanto questo l'atteggiamento del voler sopprimere il dolore quasi di ripudiarlo di non accettarlo e lì questa tecnica è molto utile perché lavora proprio su quello che ci siamo detti cioè proprio sull'accettazione piuttosto che sul ripudio quindi una volta che la fai tua e impari in qualche modo tra virgolette a dargli un significato a gestirla cioè a dargli un significato diventa molto più semplice a gestirla quindi sono completamente d'accordo e qua ci riallacciamo secondo me poi al secondo punto che è quello dell'autocritica e quindi del in qualche modo anche del perfezionismo nel senso che molto spesso corregimi se sbaglio certi pensieri potrebbero portarci anche ad una ad un'autocritica no? nel senso che magari determinati pensieri chiamiamoli tra virgolette negativi potrebbero generare in noi un'autocritica negativa nel senso che è un'autocritica che non è un qualcosa di costruttivo ma che ci porta magari a non esprimere tra virgolette il nostro potenziale passami tutti questi terminoni quindi ti chiedo qual è il tuo punto di vista da su questo argomento qui quindi sull'autocritica sul perfezionismo e su su questo tema qui certo quindi allora partiamo dal presupposto che di solito quando una persona entra nello sviluppo personale ha già magari nel sottobosco del cosciente diciamo così una voglia di migliorare per cui ha già questa tendenza a vedere uno standard che vuole raggiungere e ovviamente questa cosa è positiva se no non partirebbe neanche a voler migliorare se è la propria vita dopo però che cosa succede che entra tutto in una serie di meccanismi fra cui seguire l'influencer di turno seguire la voglia della routine perfetta per cui questo suo desiderio di avere degli standard e di raggiungerli viene doppato all'ennesima potenza quindi si dà a una persona che ha fame di cioccolata tantissima cioccolata finché non si sfonda per così dire e quindi quello che succede è che purtroppo si creano degli standard completamente completamente fuori da unire di dio cioè sentire Goggins di turno che ti urla dietro per me non è tanto sano ti può dare la motivazione di andare a correre una volta ma per la maggior parte delle persone non va bene e purtroppo si crea questa bolla di menzogne per usare una parola forte sui social dove vediamo questi influencer con una vita perfetta e pensiamo di dover di sì dover riuscire ad avere una vita perfetta come la loro questo succede anche nello sviluppo personale questa cosa si sta un po' un po' un po' perdendo infatti una promessa che mi sono fatto è tentare di mostrare sempre anche fallimenti problemi difficoltà ho appena fatto sto terminando un video in cui racconto del mio primo mese di palestra e dico che sinceramente subito mi sono trovato completamente fuori luogo cioè che la prima volta sono entrato e per paura di farmi male ho preso l'asta la sbarra del bilanciere sulla panca piana e l'ho tirata su senza pesi e mi sentivo un pirla però va bene così cioè io voglio raccontare queste cose per far capire che è normalissimo chiaro è la normalità assolutamente ma è e quindi da questo punto di vista tu nel senso sicuramente come hai detto tu tutto il mondo dei social tutto il mondo anche della divulgazione è sempre una tremenda arma a doppio taglio nel senso che purtroppo le persone faticano anche nel senso se non ci sei dentro da un certo punto di vista mi rendo conto che si fa veramente fatica a capire chi ha la verità in mano o quantomeno non chi ha la verità in mano ma chi è tra virgolette anche più etico chi è più responsabile e sostenibile anche nei confronti di chi è davanti perché poi si cade sempre nel chiaramente nel mondo del marketing quindi quello diventa il tuo lavoro ci devi guadagnare quindi a un certo punto entra anche in gioco tutto questo aspetto qui e quindi da questo punto di vista ti chiedo quali consigli potresti dare tu alle persone per in qualche modo riuscire a districarsi tra tutto questo marasma di divulgatori di influencer ci sono dei principi che secondo te o meglio dei segnali d'allarme che dovrebbero a cui dovremmo fare attenzione quando siamo davanti a qualcuno che ci parlano di questi argomenti di sviluppo personale che però non è poi così tanto etico non è poi così tanto affidabile da questo punto di vista cioè tu riconosci dei pattern diciamo comuni in chi si approccia a questo mondo si si guarda cioè lo abbiamo lo abbiamo già detto ma sicuramente il perfezionismo cioè se io seguo se mi capita di vedere una persona che mostra la sua vita perfetta se fai il lifestyle influencer oppure se quando parla di sviluppo personale sembra che sia sempre tutto perfetto quella è una persona che non seguo quindi consiglio appena vedete che al decimo post è sempre la schivania perfetta la routine perfetta si è alzato bene ha fatto la routine perfetta tutto perfetto oggi mi sento perfetto lasciate padre cioè nel senso seguite qualcun altro perché forse effettivamente le persone non lavorando in questo ambiente qua non conoscono questi personaggi chiaro io lavorando da 15 anni in questo mondo di persone sia nello sviluppo personale che fuori sempre imprenditori digitali ne ho conosciute a centinaia sono persone normalissime veramente normalissime quindi cioè questa roba della perfezione è proprio falsa 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 chiaro e cosa pensi tu anche dell'aspetto invece del come dire del mettersi del fare ciò che divulghi in prima persona nel senso banalmente anche quello che stai facendo tu probabilmente lo stai facendo anche per ispirare per dare l'esempio in prima persona lo dicevo ad esempio anche a a Valerio quando c'eravamo visti al al world che la cosa che mi è piaciuta subito di lui è che cavolo lo vedi dici ok lui fa quello che divulga nel senso anche come prestanza fisica è uno che si tiene in forma quindi cioè nel senso parla di quelle cose però le mette in pratica in prima persona no e questo secondo me secondo te potrebbe essere anche un altro campanello d'allarme nel senso che molto spesso si vedono queste persone super perfezioniste no quindi che non sbagliano mai sono infallibili sono dei supereroi e poi e poi magari nella vita reale nemmeno mettono in pratica ciò che divulgano questo chiaramente in ambito medico se ne vedono di ogni tipo soprattutto in Italia abbiamo la classe medica più vecchia la classe medica meno in forma di probabilmente di tutto il mondo di tutta la classe mondiale quindi ti chiedo dal tuo punto di vista quanto è importante anche l'aspetto del essere tra virgolette il paziente zero di se stessi cioè mettersi in prima persona nel fare ciò che si divulga nel fare ciò che si si comunica certo mi viene in mente un paio di punti il primo è che è verissimo cioè servirebbe tutto ciò ma molto spesso non lo vedi perché non lo mostrano dopo quando riconosci dal vivo vedi la vita che fanno e dici sì ma perché sui social dici tutta altra cosa quindi sì sarebbe vero se si vedesse la seconda cosa e qui faccio l'avvocato del diavolo se una persona è di sua natura già molto brava a fare una cosa perché è tipo straportata difficilmente la insegnerà cioè la frase chi non ha talento insegna è vero perché solo chi ha fatto fatica nel fare qualche cosa può insegnare quella cosa lì e quindi bisogna stare attenti a distinguere quello che dici tu che è verissimo cioè di dire A e fare B mentre invece le persone che non sono perfette perché per loro è complicato fare qualche cosa perché è una cosa che hanno imparato costantemente cioè certo per fare l'esempio la sicurezza cioè se sei sicuro di te perché per mille motivi genetici per come i tuoi genitori ti hanno tirato su per le esperienze non farai mai corsi su come essere sicuro se li fai cioè non sarebbe etico perché non l'hai dovuto imparare perché ti viene spontaneo la persona che invece è abbastanza sicura di sé ma normalmente ok non come una persona che è diciamo cento per cento venuto su così è molto meglio che questa persona insegni per cui attenzione anche a non voler cercare la perfezione sulle persone che stanno insegnando qualche cosa perché anche loro sono sullo stesso cammino magari un po' di passi più avanti a te ma ovviamente la perfezione anche lì chiaro assolutamente e questo secondo me è diciamo anche l'approccio che fa la differenza nel senso molto spesso c'è chi si mette veramente l'in alto e dice ok tu devi fare quello che ti dico io oppure ci sono dall'altra parte chi ti dice ok io sono in questa strada in questo cammino e ti condivido quello che ho imparato e tu puoi chiaramente fanne buon uso nel senso chiaramente contestualizzalo anche sulla tua sulla tua situazione e arriviamo secondo me qua a un altro punto che volevamo toccare che è quello del appunto del copiare le routine degli altri cioè magari vedo l'influencer di turno super perfezionista perfetta vita perfetta e quella persona lì mi dice che fa questo questo e quest'altro allora io copio quella routine sperando di ottenere anche quei risultati poi magari per carità in certe situazioni potrebbe anche avere dei benefici però probabilmente bisogna starci attenti a questa cosa quindi chiedo qual è il mondo dello sviluppo personale il ruolo del del copiare cioè fare rubare ciò che fanno gli altri qualcosa di sensato qualcosa a cui stare attenti come la vedi certo allora qui la via di mezzo penso che sia fondamentale l'errore di base che fanno molte persone è quello di pensare che serva qualche cosa di ferreo di preciso di statico per avere certi risultati quindi perché conosciamo quell'influencer famoso che per aver raggiunto quei risultati ha fatto x allora noi dobbiamo fare la stessa identica cosa per esempio nel mondo dell'imprenditoria sembra vedendo i vari influencer che devi spaccare ogni giorno sfondarti di lavoro essere motivato come una bestia e tutte queste cose qua quando invece conosci gli imprenditori è gente che ha vite molto diverse fra loro chiaro ovviamente è meglio tenersi in salute ma c'è anche tanta gente che non ha nessuna routine di benessere e fa i soldi comunque non dico sia sano ma sto dicendo posto un obiettivo non è detto che ci sia solo un modo per raggiungere anzi e più l'obiettivo è complesso più ci sono modi per raggiungere che cosa voglio dire se una persona vuole perdere peso sì ci sono dei modi per raggiungere ma le basi sono fondamentalmente quelle siamo d'accordo attività fisica e dieta fondamentalmente che poi ci sono vari modi per farlo nell'imprenditoria per esempio insomma ci sono tantissimi sistemi di business tantissimi modi di fare impresa modi di parlare con il pubblico quindi più l'obiettivo è complesso più ci sono modi diversi di farlo per cui venendo allo sviluppo personale le persone si fissano con delle routine soprattutto mattutine che sono utili però non devono essere ferre secondo me cioè io per esempio non ho questa routine mattutina sinceramente ho due routine mi alzo bevo un bicchiere di acqua e lavoro cioè questa è la mia routine oppure mi alzo e vado a fare mezz'ora di camminata veloce quindi ci sono persone che si trovano molto bene a fare mezz'ora di meditazione oppure un'ora di altro quindi non mi tricerei con delle routine specifici assolutamente ma e qui ti cito la mia personale opinione quanto è importante secondo te comunque anche laddove si copia una routine altrui o laddove si decide di ok da domani devo fare questa routine perché penso posso avere dei benefici quanto è importante dal tuo punto di vista la costanza in questo nel senso anche se vedi che a primo impatto potrebbe non andarti bene quindi magari inizio una nuova routine primi due o tre giorni dici forse forse non va bene quanto è importante però secondo te comunque darsi quantomeno un periodo medio lungo di 15 20 30 giorni per cercare di vedere cosa succede è una cosa che dico spesso ai pazienti perché poi molto spesso all'inizio secondo me la costanza quantomeno la ripetizione è ciò che poi realmente nel lungo termine ti dice se quella cosa va bene o non va bene perché è chiaro che nel breve periodo stai apportando un cambiamento magari anche significativo diciamo il sistema si sbilancia tutto non è più in equilibrio e quindi è chiaro che magari quella nuova cosa potrebbe risultare poco piacevole così come chi cerca di inserire l'esercizio fisico all'inizio è una fatica all'inizio è qualcosa che magari non siamo abituati a fare però poi se ti dai quella costanza quella regolarità proprio te lo imponi 20 giorni devo farlo dopo generalmente si sperimenta un beneficio quindi ti chiedo secondo te è importante comunque anche laddove capiamo che magari non era una rutina adatta a noi cercare lo stesso di avere un minimo di costanza provare a portarla avanti oppure è meglio subito diciamo così metterla da parte dire ok non fa per me e provo qualcos'altro certo guarda partiamo dal presupposto che uno dei miei motti è che nella vita bisogna provare tutto così scopri prima di tutto ciò che non ti piace chiaro quindi noi abbiamo questa concezione cioè ci creiamo una identità su quello che secondo noi ci piace o non ci piace senza mai aver provato niente o aver provato per pochissimo tempo quindi ti faccio due esempi l'esempio di mia moglie per esempio che pensava di andare in palestra ma pensava che non le piacesse le ho detto senti fai un mese fai un mese quindi non voleva ho insistito ha fatto l'iscrizione e alla fine non le è piaciuto però almeno lo sa che è una cosa utilissima utilissima e ora segue dei youtuber fa delle routine a corpo libero calisthenic si chiama routine varie ed è contentissima allo stesso tempo io pensavo che mi facesse assolutamente schifo andare a camminare 30 minuti al giorno ogni giorno al secondo terzo giorno mi sono detto oh cavolo ho detto di fronte a tutto youtube che lo farò per un anno al secondo giorno volevo abbandonare quindi dopo una settimana due non vedo l'ora di farlo quindi la motivazione per me serve cioè la motivazione intesa come fare qualche cosa di cui non hai voglia in questo senso è fondamentale all'inizio cioè non avrai voglia di andare in palestra non avrai voglia di magari fare meditazione non avrai voglia di dopo un po' una cosa ti deve piacere cioè a meno che tu non abbia la necessità di fare qualche cosa per esempio se insomma nel non lo so 500 non so se fosse 500 ma stavo leggendo no 500 no ma nell'800 le persone andavano a lavorare in miniera per 12 ore è ovvio che dovevano farlo cioè voglia o non voglia siamo in una società in cui molte abitudini si possono fare o non fare di conseguenza la spinta di fare qualcosa che non ti piace all'inizio è fondamentale dopo un po' ti viene piacere perché non puoi andare in palestra un anno intero se ti fa schifo cioè sicuramente molli meglio se trovi qualcos'altro beh ma questo è un punto importante perché poi scudo a me ciò che non ci piace cioè ciò che magari sappiamo che non fa per noi molto spesso è proprio quello che poi ci indica la nostra direzione spesso ci focalizziamo solo su cosa mi piace cosa voglio sulle cose tra virgolette positive però invece in effetti provare puoi scoprire anche ciò che non ci piace ciò che non ci appartiene spesso può essere veramente poi la bussola che ci indica la nostra strada spesso è una cosa che si vede molto spesso passiamo passiamo oltre a questo argomento che secondo me ne potremmo parlare per ore altrimenti e volevo introdurre il quarto non mi ricordo a che punto siamo arrivati che è quello dell'ipercompensazione ce la introduci e ci dici cos'è e perché dobbiamo stare attenti allora chi entra nello sviluppo personale entra con delle necessità delle cose di cui si sente mancare facciamo l'esempio mi sento mancare di sicurezza autostima mi sento che le persone mi mettono i piedi in testa quindi che cosa faccio faccio un corso di comunicazione negli anni 80-90 andavano i corsi di assertività l'assertività è la capacità di comunicare non in modo aggressivo e non in modo passivo quindi comunicare nel mezzo quando è il giusto mezzo quindi non farsi mettere i piedi in testa e non metterli ora purtroppo però il mercato in alcuni di questi corsi ha risposto alle esigenze del mercato quindi è andato un po' sull'aggressivo di conseguenza gli insegnavano e ci sono ancora dei rimasugli di questi insegnamenti gli insegnavano delle tecniche di comunicazione non proprio sane cioè per esempio che non bisogna mai chiedere scusa perché chiedere scusa ci si mette sotto all'altra persona ma chiunque ne sappia un po' di comunicazione seria mettersi momentaneamente sotto all'altra persona fare un passo indietro diciamo è una componente fondamentale della comunicazione certo sia quando sbagli ma anche in generale cioè se tu mi stai spiegando ok se tu mi spieghi qualche cosa di fisioterapia è ovvio che in quel momento io da un punto di vista comunicativo mi metterò sotto di te perché se mi metto sopra sono un pirla e non imparo niente giusto? quindi e purtroppo ho fatto l'esempio della comunicazione ma queste cose succedono con lo sviluppo personale in generale cioè ci sentiamo carenti di qualche cosa invece di trovare subito il il giusto mezzo andiamo sul lato opposto e mostriamo eccessiva sicurezza oppure mostriamo eccessiva motivazione che in realtà non è motivazione ma è raccontarsela per cui da un certo punto di vista è normale se ne siamo consapevoli cioè se ne siamo consapevoli che dobbiamo cercare il nostro giusto mezzo perché siamo stati sbilanciati dobbiamo risbilanciarci per ritrovare il giusto mezzo però purtroppo se non ne siamo consapevoli è molto pericoloso è un po' stavo cercando non mi ricordavo bene il nome la sindrome di Dunning-Krager cioè quella sindrome che quando sai non sai nulla pensi di sapere tanto e ti metti diciamo sul gradino alto sul podio pensando di sapere tutto invece poi realmente anche nel mondo banalmente della scienza lo diceva non mi ricordo quale filosofo sapere di non sapere cioè chi veramente conosce più studi più ti accorgi di quanto cavolo non sai cioè di quante cose ci sono ancora da scoprire ancora da approfondire e quindi veramente questa è probabilmente una cosa che caratterizza chi anche non ha secondo me sete di conoscenza sete di di voler andare a fondo nelle cose di conoscerle di provarle di in qualche modo di studiarle anche perché poi lo studio secondo me è la cosa che può veramente salvare il mondo nel senso che lo studio alla fine è ciò che può realmente darci anche la consapevolezza perché dal momento che tu conosci delle cose conosci anche cioè sai anche tante altre cose che non conosci e quindi quello ti può dare la giusta consapevolezza no però è un argomento secondo me è molto interessante ed è super attuale perché una cosa che si vede secondo me è sempre di più questa anche ormai nel mondo in cui i social ritornando al discorso di prima hanno dato parola a tutti tutti hanno il potere di dire la loro questo effetto secondo me si sta vedendo in maniera esponenziale e ritorniamo al discorso di prima bisogna sempre stare attenti e capire chi abbiamo davanti quindi poi un po' tutto si collega alla fine l'altro punto è quello che vorrei che introduce quello delle tentate soluzioni ridondanti che vorrei approfondire perché secondo me è molto molto interessante assolutamente allora si collega con molte cose che abbiamo detto finora e fa da cappello nel senso che il concetto di tentata soluzione ridondante è stato scoperto dal è stato creato dal famoso Mental Research Institute di Palo Alto e dopo perfezionato dal dottor Giorgio Nardone della scuola di terapia strategica di Arezzo ed è un concetto molto secondo me geniale che le persone dovrebbero sapere fin dai sei anni probabilmente che è quando c'è un problema noi tentiamo di risolverlo ma la soluzione peggiora e mantiene il problema stesso quando parliamo dell'ambito psicologico questa è una cosa che si vede costantemente cioè per esempio se ho un pensiero negativo e tento di scacciarlo questo mio scacciarlo rafforza il pensiero negativo magari funziona lì lì e quindi mi fa pensare che per 5 minuti ha funzionato per cui se lo faccio di più magari riesco per mezz'ora a scacciare questo pensiero e invece lo tiene in vita funziona con i pensieri funziona con l'ansia se tento di scacciare l'ansia mi tornerà ancora più forte funziona con la paura se io per esempio ho il timore di andare alle poste e non ci vado più non ci vado più la paura aumenterà per cui è una tentata soluzione ridondante perché ritorna disfunzionale perché non è funzionante anzi pezzora il problema per cui un problema piccolo viene ingrandito dalla nostra tentata soluzione funziona nella comunicazione per esempio quando ho un bambino che ha 5 anni e lui si agita litighiamo e io alzo la voce lui si agiterà ancora di più per cui il mio tentare di bloccarlo in realtà peggiora ora perché faccio questa mega premessa perché purtroppo le cose che molte persone fanno nello sviluppo personale sono delle tentate soluzioni disfunzionali che vengono proprio insegnate nei libri ovviamente non dicono che sono tentate soluzioni ma l'ipercompensazione è una tentata soluzione disfunzionale cioè io mi sento insicuro faccio il figo e in realtà non ho risolto perché comunico male comunque quindi bisogna sempre stare attenti a il mio tentativo di soluzione mi risolve veramente il problema o lo peggiora oppure mi crea un altro problema e questo è una cosa che succede credo che nel mondo del dolore probabilmente qualcuno ha rubato questa teoria nel senso che noi viene descritto il modello di paura evitamento il fear avoidance model cioè quel modello per cui molto spesso quando si ha un dolore e spesso questa è una condizione iatrogena cioè nel senso indotta dalla medicina stessa quindi dai professionisti sanitari stessi perché molto spesso si ha il dolore qual è il primo consiglio che si dà stai fermo il problema è che così si innesca proprio tutto un circolo vizioso per cui stai fermo hai ancora più dolore hai ancora più paura di muoverti eviti determinati comportamenti determinate azioni e tutto questo circolo diciamo si autoalimenta e quindi è veramente un problema reale soprattutto come ti ho detto iatrogeno nel senso è veramente stato descritto come un problema indotto talvolta dalla medicina stessa e ti chiedo quindi anche nel mondo dello sviluppo personale esiste questo questo problema questo stigma nel senso in realtà l'hai appena citato tu cioè che gli stessi le stesse persone che magari divulgano parlano gli psicologi eccetera eccetera di questi argomenti possono in qualche modo indurre a degli errori di questo tipo allora tu stai parlando dei professionisti si 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 libri professionisti insomma chi dovrebbe dare soluzioni che magari invece esattamente quindi si cioè prima abbiamo parlato soprattutto di persone che insegnano sviluppo personale fatto male ma anche i professionisti stessi e faccio una mega premessa che è questa qua io ovviamente ho il più profondo rispetto per gli psicologi il mio socio è psicologo però non lo dico io lo dicono proprio gli studi che certe volte la la psicoterapia può causare più danni che altro ovviamente si parla di percentuali molto basse rispetto ai benefici che dà quindi più che la psicoterapia però effettivamente direi la divulgazione perché lo psicoterapeuta spesso è capace di capire chi è davanti e quindi non infilarsi in tentate soluzioni ridondanti invece quando le persone prendono a caso delle cose da una divulgazione per esempio di uno psicologo possono applicare ad un problema la soluzione sbagliata e questo è una delle cause dell'attentata soluzione ridondante tu su questo ci hai fatto un video secondo me super approfondito e bello che è quello sono andato da sette psicologi diversi che poi secondo me hai dato un sacco di spunti interessanti perché alla fine poi magari non è tanto il cioè dipende chiaramente i diversi approcci magari su una persona funzionano sull'altra no nel senso che comunque tutti siamo diversi esiste la soggettività quindi quel video magari lo mettiamo qui sotto in descrizione perché secondo me è super super interessante da vedere e arriviamo all'ultimo punto che poi si rilaccia un po' a tutto questo che è quello del ruolo della salute mentale nello sviluppo personale cioè praticamente ne abbiamo già parlato all'inizio quindi di questa stretta relazione che ci deve essere tra lo sviluppo personale e lo sviluppo diciamo del proprio benessere quindi qual è in questo senso il ruolo della salute mentale è l'errore che si fa più spesso che è appunto quello di ignorarla cioè pensare che sia qualcosa di scollegato certo certo e questo penso che sia il punto che darà più una mano concreta alle persone se decidono di fare il giusto passo perché chiunque abbia avuto un po' di nozioni di psicologia e abbia frequentato lo sviluppo personale soprattutto negli scorsi anni si è reso conto che molte persone che seguono lo sviluppo personale in realtà lo fanno per compensare dei problemi di benessere mentale di salute mentale ora quando dico salute mentale ovviamente non intendo chissà che problemi possono anche essere dei problemi normalissimi che ha il non lo so il 3% della popolazione quindi però perché succede tutto questo perché dato che c'era lo stigma della salute mentale cioè si pensava se io ho un problema di salute mentale se vado da uno psicologo sono pazzo sono matto questa si io per di più dallo psichiatra che c'era lo strizza cervelli nel si ma anche lo psicologo comunque cioè comunque se ci pensi anni fa faceva stranissimo cioè se una persona ti diceva vado da uno psicologo a una persona normale cioè eh ma tu cioè stai bene no invece negli scorsi anni mi sono reso conto che tantissimi miei amici mi hanno detto con una tranquillità pazzesca vado dallo psicologo persone che non avrei mai neanche sognato di sentigli dire una frase del genere però tornando al discorso il fatto è che dato che c'era questo stigma persone che avevano delle problematiche invece di andare da uno psicologo andavano a fare dei corsi di sviluppo personale per cui si creavano quello che abbiamo detto l'iprecompensazione l'autocritica e le tentate a soluzioni ridondanti quindi magari la cosa che capita più spesso in assoluto è ho dell'ansia penso di avere poca autostima vado a fare dei corsi sull'autostima o dei corsi di motivazione oppure ho dell'autocritica forte verso di me comincio a fare mille routine per migliorare però sono tutte tentate soluzioni ridondanti e infatti il mio socio nel suo studio arrivano molte persone che vengono dal mondo dello sviluppo personale classico cioè dallo sviluppo personale soprattutto legato al perfezionismo quindi se posso lanciare un messaggio per chiunque faccia sviluppo personale e non abbia avuto risultati particolari non tanto nella nella vita cioè se tu vuoi per esempio fare più soldi e fai qualcosa di sviluppo personale magari i soldi li fai ma magari ti senti uno schifo uguale ok è perché devi risolvere certi problemi i soldi non sono la sola soluzione se ti senti uno schifo con te stesso ok sono solo un modo per coprire quelle sensazioni lì quindi e chiunque abbia frequentato un corso di sviluppo personale chiunque abbia frequentato un corso di meditazione anche se rende conto che molto spesso lo fanno per coprire determinate problematiche noi abbiamo un'app di meditazione e lo sappiamo perché abbiamo fatto dei sondaggi che molte persone lo fanno per gestire pensieri negativi la meditazione è utilissima sì ma se la fai nel modo giusto e ci sono delle tecniche che funzionano anche meglio chiaro assolutamente ritorniamo sempre al discorso poi dell'approccio cioè alla fine tutti questi possono essere visti come banalmente degli strumenti e chiaramente noi dobbiamo essere bravi nell'applicare lo strumento giusto al contesto giusto quindi poi il discorso alla fine ricade sempre qui Marco abbiamo fatto secondo me una super chiacchierata ti faccio le ultimissime due domande di rito di questo podcast la prima ti chiedo cosa è per te il benessere quindi cosa vuol dire per te stare bene cosa vuol dire per me stare bene wow per me stare bene vuol dire essere soddisfatti allora ovviamente a livello diciamo fisico sentire un corpo che funziona un corpo che ci dà una una mano però in generale il benessere per me vuol dire essere soddisfatti degli sforzi fatti fa anche rima non l'ho fatto apposta nel senso non essere soddisfatti dei risultati ma arrivare a fine giornata e dire ok sono soddisfatto di aver fatto quegli sforzi che volevo fare certo e ho dato il massimo e quindi sono soddisfatto del mio della mia azione certo non tanto dei risultati perché sui risultati non ho il controllo completo sull'azione ha molto più controllo questa è una cosa fantastica secondo me che esposo molto che può sembrare paradossale cioè amare le cose per cui si fa fatica cioè fai fatica a fare una cosa che però ti dà quella realizzazione anche da un certo punto di vista secondo me sono le cose veramente a cui puoi prestare più attenzione quindi sono completamente d'accordo ultimissima domanda per essere quanto più pratici possibile è quella della sfida settimanale cioè tutti gli ospiti che vengono qui al termine del podcast lasciano una piccola alla minima sfida settimanale che ti senti dare a chi ha ascoltato questo podcast relativa chiaramente a tutto quello che ci siamo detti cioè c'è una piccola sfida che vuoi lanciare tu a chi ha ascoltato questo podcast che puoi mettere in pratica sin da subito sì vi lascio un esercizietto per beccare eventuali tentate soluzioni ridondanti nelle vostre vite ipercompensazioni e cose del genere ogni giorno invece di pensare positivo vi alzate e scrivete per 5 minuti su di un foglio di carta rispetto ad un problema che avete come potrei peggiorare il problema cioè quindi fate l'esercizio contrario questa è proprio una tecnica della scuola strategica e vi renderete conto se scrivete i modi di peggiorare che avete molta più efficacia capacità di azione sui problemi e vi renderete conto che in parte siete artefici dei vostri problemi stessi quindi invece di pensare positivo pensate come peggiorare per 7 giorni bellissima bellissima questa tecnica posso dire che è super efficace quindi concordo al 100% Marco ti ringrazio di cuore di questa chiacchierata abbiamo dato secondo me una panoramica super interessante è uscito veramente un mini corso allo sviluppo personale allo sviluppo personale quindi sono super contento ti ringrazio davvero di cuore ragazzi come sempre vi invito a lasciare like mettere mi piace iscrivervi e lasciare una recensione invece se ci state ascoltando su tutte le piattaforme di streaming digitale come sempre ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao Marco e grazie mille di essere passato ti ringrazio di cuore per aver visto questa puntata fino alla fine e come sempre ti invito se ti è piaciuto l'episodio ad iscriverti a questo canale lasciare un mi piace e se ci stai ascoltando sulle piattaforme streaming di condividerlo con chiunque pensi possa averne bisogno se inoltre vuoi fare il primo passo concreto verso l'ottimizzazione della tua salute e del tuo benessere ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi il link d'accesso alla mia piattaforma alla mia scuola di ottimizzazione del benessere wildhuman.it qua di fianco a me inoltre trovi altri episodi che potrebbero interessarti del podcast quindi ti invito se ti va a guardarli altrimenti come sempre noi ci vediamo al prossimo episodio ciao